È nota soprattutto per aver dato voce a René O'Connor nel telefilm Xena, a Sonia Baum nella sua popera Giulia La Strada per la Felicità ed a Jennifer Garner nella serie Alias, ha doppiato inoltre il personaggio di Rizza Legan nell'anime Candy Candy, quello di Peline nell'anime Peline Storie e molti altri ancora. Tra le attrici doppiate Mila Jovovich nel quinto elemento di LUC Besson, Neve Campbell nella quadrilogia di Scream diretta da Wes Craven, Lark Voris nella serie By Side School, Olivia Wilde nella serie DR, House Medical Division, Halle Berry, Shannon Doherty, Elisabeth Urali, Penelope Cruz e l'ex cantante dei Fuge Lori Neill in Sister Act 2 Mission in The Walking Dead, ha vinto l'anello d'oro come miglior voce femminile per il cinema nel 2005 con il doppiaggio di Ilari Swank in Million Dollar Baby di Clint e A.S.T. Wood.